E' una partita ping pong quella in atto tra amministrazione ed opposizione di centro-sinistra, con il Partito Democratico pronto a lanciare al Comune critiche e anche suggerimenti sulla gestione della fase 2. Dall'altro lato del campo il Mezzabarba risponde colpo su colpo alle diverse tematiche sollevate dai democratici in questi giorni. Tra i temi più caldi è la gestione delle attività commerciali, argomento che sarà al centro di quattro commissioni consigliari, convocate in via telematica a partire dal prossimo 27 maggio. Intanto il Partito Democratico solleva più di un quesito. Guardi, di priorità ce ne sono diverse. Alcune vengono molto spesso manifestate dai commercianti, i quali dicono che siccome i locali probabilmente al chiuso si farà fatica a gestirli e saranno poco capienti, quindi richiediamo degli spazi all'aperto. Qui bisognerà capire in che modo il Comune vuole concederli e soprattutto a che prezzo. E questo in che modo impatterà per esempio sugli spazi sui quali attualmente passano le auto oppure gli autobus? Queste sono per esempio priorità che incidono non solo sulla mobilità ma proprio sull'aspetto economico, quindi bisogna sostanzialmente combinarle nel miglior modo possibile e per questo non si può fare in una stanzetta chiusa sentendo due o tre persone, bisogna udire la città. Per questo noi abbiamo chiesto che i consigli o queste audizioni fossero fatte alla presenza del sindaco e soprattutto che fossero in diretta in modo tale che chi va a parlare con il sindaco, con i consiglieri comunali e i presidenti di commissione possa farlo sapendo che qualcuno a casa sta ascoltando, sta guardando ed eventualmente possa anche apportare altre segnalazioni e altre indicazioni utili a migliorare la città.